Dopo il sopralluogo dei periti sulla strada dove è avvenuto il drammatico incidente per Alex Zanardi nel comune di Pienza in provincia di Siena, è il momento dell'analisi dei dati raccolti. Passati al setaccio il tir contro il quale si è schiantato il campione paralimpico, la sua handbike e la strada. Il camion è stato messo in moto durante il sopralluogo spostato per osservare meglio il fianco sul lato del guidatore. Grande attenzione è stata riposta sulle ruote della handbike di Zanardi, sono state gonfiate per cercare di capire se possono aver avuto qualche problema. E poi l'asfalto dove è avvenuto l'impatto, anche questo è stato osservato centimetro per centimetro, fotografato dagli uomini dell'arma dei carabinieri, ispezionato a fondo. In quella zona il manto non è perfetto, ma neanche disastroso. Insieme ai periti ed ai legali che hanno partecipato al sopralluogo, anche la moglie di Alex, che ha voluto assistere a tutti gli accertamenti, un modo per non perdere neanche un istante nelle indagini sul drammatico incidente del marito campione.